La giornata mondiale delle zone umide ha lo scopo di sensibilizzare le persone sull'importanza di queste aree per il nostro pianeta. Le zone umide, come ad esempio la palude di Torre Flavia a Ladispoli, sono ambienti con un'elevata diversità biologica. Istituita nel 1997, la palude di Torre Flavia è un'area naturale protetta che si estende nei comuni di Ladispoli e Cerveteri. Ad oggi questo territorio è gestito dalla città metropolitana di Roma Capitale. Grazie ad un emendamento a bilancio proposto, la città metropolitana ha di recente stanziato fondi per un valore di 300.000 euro per un'ampia serie di lavori di ripristino ambientale e miglioramento della fruizione nel monumento naturale, ha detto il consigliere comunale Federico Ascani. Anche il lavoro dell'associazionismo, che si prodiga per la pulizia delle spiagge, è di fondamentale rilevanza l'educazione ambientale, ha concluso Ascani, è una priorità per tenere intatto questo paradiso della natura.